Sì, perfetto, grazie Marina. Noi siamo in diretta dalla sede dell'Europovini Teat & Basket con il coach Piero Cohen. Buon pomeriggio coach, grazie per aver accettato il nostro invito per anticipare quello che è il derby con Giulianova. Giulianova che ha vinto dopo l'overtime a Catanzaro e quindi sarà un bel derby. Come tutti i derby, penso di sì. Immagino sarà una partita combattuta perché Giulianova si è contraddistinta in questo campionato proprio per le sue qualità mentali. Ha ribaltato partite molto complicate, è riuscito a portarle a casa e quindi questo è l'indice di una squadra che verrà qua a combattere e noi dovremo fare altrettanto. Al di là delle condizioni degli infortunati che non c'erano, soprattutto Innocenzo Ferraro nella trasferta di Catanzaro, che squadra si aspetta domenica al Pratricalle? Dove deve essere brava tatticamente Chieti? Innanzitutto noi dobbiamo pensare più a noi stessi, a questa ricerca di un'identità che ancora non è venuta fuori. Questa identità dovrà essere contraddistinta da una difesa particolarmente attenta, particolarmente aggressiva sulla palla, visto che loro hanno anche un basto numero di giocatori che possono punirti dalla linea dei tre punti. Quindi, tatticamente, dovremmo essere pronte le loro soluzioni perimetrali. Tanto più se dovesse mancare Ferraro e quindi sarebbero anche un po' più costretti a questo tipo di soluzioni. Due settimane di lavoro pieno a Chieti, c'è stata la partita con Catanzaro, poi il turno di riposo forzato per l'esclusione di Lamezia. Due settimane sufficienti per capire di cosa ha bisogno questa squadra? No, due settimane secondo me non sono sufficienti. C'è ancora bisogno di tempo perché i giocatori possano anche adattarsi al sottoscritto. È chiaro che io devo adeguarmi a loro, ma nello stesso momento anche i giocatori devono verificare le loro qualità di adattamento a quello che è il mio sistema. Per cui c'è bisogno di tempo, ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Siamo nelle condizioni di poter giocarcela, io credo, contro chiunque. Per cui nessun alibi e stringiamo i denti e cerchiamo appunto questa nostra identità di farla venire fuori il prima possibile. Ricordando l'appuntamento di domenica, palla a due ore e diciotto, il pubblico è sempre stato l'arma in più di Chieti. Lo ha detto più volte il presidente Marchesani nelle nostre trasmissioni. Dietro le telecamere c'è il GM Michele Paoletti. Contento di averlo ritrovato dopo Recanati? Ma sì, è stata una piacevole sorpresa, visto che avevamo lavorato fino a, si può dire, pochi giorni fa, pochi mesi fa. Quindi è stato un piacevole rincontro. E chissà che non sia già qualche intreccio di mercato. Io per quello che mi riguarda sono troppo concentrato a pensare di avere il massimo da questi giocatori. Poi per me è ancora troppo tempo per capire effettivamente se questa squadra ha bisogno e dove ha bisogno. Perfetto, grazie a coach Piero Cohen. L'appuntamento con il basket, con la Serie B, il derby domenica, palla a due ore e diciotto, al Palatricalle di Chieti. È tutto Marina, ti restituisco la linea.